Il problema grosso è un problema di emergenza, nel senso che non ci sono i soldi per i servizi sociali, in particolare anche persino per l'assistenza domiciliare a disabili gravi, gravissimi, oltre il mese di ottobre. L'impegno che noi abbiamo chiesto alla Giunta, anche come maggioranza, è quello di reperire immediatamente, prioritariamente questi fondi, ma neanche mese per mese, perché non è possibile chiaramente andare avanti mese per mese, ma almeno intanto fino alla fine dell'anno, in modo da lasciare veramente respirare le famiglie che già vivono, i cittadini che già vivono situazioni di disagio enorme. Quindi il sostegno a questa manifestazione da parte mia, da parte nostra c'è tutto, è una manifestazione che chiede una regolarità e non una precarietà dell'erogazione dei servizi. Poi subito dopo si può affrontare il tema dei modelli di erogazione dei servizi. Secondo te questo sistema dei servizi erogati tramite le cooperative è un sistema che funziona valido o è in crisi solo per la questione di crisi economica? Questo è il vero grande problema strutturale del modello di erogazione dei servizi. Noi, l'abbiamo sempre detto, siamo con l'Associazione Coscioni, con l'Associazione per la Vita Indipendente, siamo per favorire una graduale conversione a quella che oggi viene definita con una formula che non ci piace, non è molto chiara, l'assistenza indiretta, cioè la possibilità per l'utente, la possibilità per il cittadino di avere effettivamente una vita più indipendente e più autonoma e quindi di poter lui decidere a chi assegnare, a quale persona, a quale professionalità assegnare la propria assistenza. Ricordiamolo, quella gestita dal Comune non è un'assistenza sanitaria, è un'assistenza domiciliare, diciamo in senso ampio, in senso lato e quindi noi siamo per questo modello e tenteremo anche di fare in modo che ci sia innanzitutto un'informazione su tutte le famiglie, su tutti gli utenti che c'è la possibilità di utilizzare questo modello, che è un modello che oltre ad avere la prima grossa virtù, cioè assicurare una maggiore autonomia, una maggiore sviluppo della vita indipendente appunto dei cittadini, implica anche un risparmio, perché effettivamente diciamo si potrebbero garantire servizi con questo modello a più persone di quelli che oggi sono servite dal Comune di Roma. Grazie Riccardo Maggio, a questo punto buon lavoro. Grazie per essere qui, per ricordarci che se abbiamo vinto le elezioni l'abbiamo vinto nel segno di una parola, che è discontinuità, cambiamento. Ognuno di noi ha fatto fatica negli ultimi 5 anni, chi ha sostenuto i servizi e chi ha conflitto di te. È tutto vero, io sono stata con il Gioce a Fraide da subito, sia quando era il momento di protestare, sia adesso che il mio ruolo è cambiato e sono diventata a una violetta e un'istituzione. La collaborazione che c'è stata prima e anche la partecipazione attiva che è stata reciproca sarà naturalmente la mia modalità di lavoro, il più forte, diciamo già lo abbiamo in qualche modo dimostrato. Roma Capitale sta facendo un ragionamento sulle politiche sociali perché sapete che siamo in una situazione finanziaria veramente grave e naturalmente l'obiettivo del sindaco e di questa amministrazione è che si può tagliare su tutto, anzi non si dovrebbe tagliare su niente, però se proprio dobbiamo dare un ordine di priorità, le politiche sociali che hanno dato tanto al nostro cammino elettorale sono una priorità di questa amministrazione, quindi anche a fatica, anche litigando, anche diciamo confrontando le diverse indizioni sulle politiche sociali sono tutti con il sott'avviso. La proposta di bilancio che è arrivata in questi giorni conferma nel 2013 le stesse risorse che sono state spaziali per il 2012, che sono poche, però a noi esattamente ci hanno consentito in qualche modo di venire in piedi una reddita ai servizi. Sono i ritardi di pagamento che hanno messo in croce tutto il mondo associativo e cooperativo. L'obiettivo della poliscrizione marino è far tornare la città ad essere una città normale, dove il bilancio si fa a febbraio, dove si fa la manovra correttiva a giugno e dove eventualmente si vede il terzo novembre. Non si può arrivare a novembre per votare il bilancio di un anno che è già finito, che è quello del buon lavoro. Questa difficoltà naturalmente la affronteremo insieme, adesso c'è la nostra delegazione che sta su con l'assessore Dutti, ma il metodo che ci dovremmo dare una volta usciti dall'emergenza è quella di un tavolo, dove le politiche sociali vengono in qualche modo riprogettate insieme. Noi abbiamo bisogno di attivizzare le risorse, ma abbiamo bisogno di rispondere a nuovi che siamo in una precedente amministrazione e non hanno avuto le risposte adeguate. Io ci sarò, come ci sarete voi, facciamo rete e lavoriamo insieme perché la città è di tutti se tutti sono protagonisti attivi del cambiamento che noi tutti desideriamo. Grazie. Allora grazie a Erika che si espoglie, prego. Buonasera, sono la mamma di ragazzo d'altro che c'è qualche anno. Vorrei dire a Erika che i finanziamenti che ci sono stati dati nel 2012, che ce li vedranno anche nei prossimi anni, ormai erano stati dimezzati dal 2008 che è stato dimezzato il fondo delle politiche sociali, quindi o lo riintegrano e ce li danno come era prima nel 2008, oppure i servizi continueranno a essere tagliati. Quindi io che sono una mamma non è che mi sento l'ultima ruota del carro, io penso che noi sul carro ancora non ci siamo saliti. Erika lo sa perché lei nel suo battaglio, a prescindere dal tuo nome, le ha fatte vicino a noi. Io l'ho vista a Montecitorio quando protestavamo, non mi ricordo neanche per che cosa, per tutte le cose che siamo... per il fondo della non autosufficienza, che anche quello non è stato tagliato, è stato azzerato. Quindi io dico una cosa, no? Scusate perché poi ogni tanto mi devo sfogare. Allora io dico una cosa, se ogni anno chi sale taglia il governo, no? Taglia, le amministrazioni tagliano perché il governo taglia, tagliano in continuazione, ma alla fine che cosa ci rimane? Per i disabili che cosa ci rimane? Quindi io dico una cosa, facciamo rete, mi sta bene, cerchiamo di essere uniti perché poi il mondo della disabilità è troppo spaccato, spaccato, non si va da nessuna parte. Quindi cercate di fare gruppo, di compattarvi, di capire che l'unica strada è quella in ogni caso della protetta, perché chi sta zitto viene soppresso, punto.